Il mio zio è emigrato in America, ritorna con un guardaroba straordinario. Ecco, con questo guardaroba io creo la mia prima collezione di alta moda. Raccontavo di queste donne migranti, di queste donne che partono con i loro uomini dalla Sardegna. Il navigare è il viaggiare per eccellenza. Proprio navigando ho avuto questa sensazione di essere nel mondo, di vivere. Ero il figlio della giungla, un bambino di allora che viveva in natura e ahimè uccideva parecchio. Cerco una terra, un'isola, una riva dove possa trovare gli strumenti per far vedere a tutti che se lo voglio veramente, poiché sono l'idea, mi posso realizzare.